bene siamo sempre nelle guide di sodi linux per mostrare sodi linux su windows francesco fusillo vi mostro adesso la situazione che si è creata allora abbiamo una finestra con la virtual box e dentro si è spalmato installato sodi linux allestito perfettamente come l'abbiamo organizzato noi come vedete una finestra di windows windows che però ha un nuovo applicativo oracle virtual machine virtual box che posso trovare anche dal menu programmi eccola qua oracle perfetto il lanciatore ce l'ho sul desktop perché ho dato questo ordine durante l'installazione quindi non faccio altro che dare un doppio clic alla macchina virtuale o dire avvia io preferisco doppio clic ecco che parte ci vuole un po perché non è un programma ma è un sistema operativo quindi tutti i software che ci sono dentro se li devi tirare su e tutte le configurazioni che abbiamo messo anche che se però è naturalmente linux ed è un po più veloce di windows però è comunque un sistema operativo quindi ci vuole un po metto in pausa e riapro quando si sarà spalmato ecco che sta aprendosi completamente è passato circa un minuto bene questo è so di linux virtuale come dicevo prima è una finestra di windows basta che la ridimensiono il mio so di linux si riorganizza ad essere piccino piccino e quindi come qualsiasi software di applicativi di windows sta nella sua finestrina così ovviamente non è utilizzabile quindi io lo apro a schermo intero e mostro solo le funzioni principali naturalmente perché sono le più comode mostrano la funzione di visualizzazione e i software l'uso della docu station e come salvare come agire sulla rete come stampare bene perché voglio usarlo come fosse installato allora io vado in visualizza e me lo metto a schermo intero eccolo lì quindi il mio so di linux bello come il sole sembra installato ma non lo è per gestire la macchina windows ci mette a disposizione questa questa barra che ci permette di passare alla modalità scalata come eravamo prima vedete e quindi ridimensionarlo lavorare anche con altri applicativi contemporaneamente di windows vero perché windows è lì perfettamente funzionante io posso aprire che ne so un'altra file d'immagine lei parte come come fosse funzionato cioè a 2 giga a disposizione lui se li gioca e lavora oppure lavorare con so di linux torniamo al schermo intero bene allora abbiamo visto le finestre il mouse va o per so di linux o per linux o per windows a seconda dove si sposta se si sposta nell'area windows va con windows se si sposta nell'area linux va con linux altra cosa i software i software sono perfettamente funzionanti eccoli qua tutti quanti operativi a vostra disposizione lettore di schermo la tastiera virtuale il software offerto dalla didattica che abbiamo scelto per voi e per questo allestimento di so di linux appunto sottolineo ancora la particolarità della interoperabilità dei nostri software quindi software che possono essere utilizzati con windows linux e mac e quindi file che sono salvati con so so di linux per esempio il file di san corè noi potremmo usarlo con windows e viceversa e quindi adesso parliamo del salvataggio quindi dove vanno a finire i file che facciamo nel video successivo vedremo che vanno su chiavetta la cosa è semplice ma se io voglio salvarli qui dentro per esempio apre un file div writer e voglio riaprire la mia macchina con il mio studio linux e continuare un testo che ho appena scritto oppure dopo che l'ho finito metterlo su chiavetta allora io apro writer come vedete adesso è configurato con la barra di vox quella che gestisce la sintesi vocale già operativa ma potrete eliminarla semplicemente se non vi interessa la sintesi vocale dalla barra degli strumenti togliere uno spazio avere più visibilità di monitor bene allora scrivo il primo documento di sodi per win ecco quindi il primo documento di sodi linux per windows catturo anche un pezzo di monitor per far vedere la situazione come funziona funziona proprio come fosse installato vero catturo catturo un pezzettino di monitor questa immagine copia negli appunti me la metto qui sotto in modo ctrl v eccola lì ctrl v allora diciamo fill file di prova vedete la velocità non è rallentata lo salvo dove lo salvo bene vado su file salva con nome e lo salvo qui dentro insomma in questa macchina virtuale che può arrivare a 30 giga quindi lo salvo nei documenti lo chiamerò prima prova siccome io uso quasi sempre windows ad esempio va bene allora lo salverò per doc se non voglio salvarlo in formato libero ecco mi dice lo vuoi salvare chiedemelo sempre non me lo chiedere sempre e questo è usamelo per doc se volevo salvarlo sulla scrivania per usarlo con comodità lo salvavo sulla scrivania che sarebbe il desktop no? ma si il desktop no? eccolo qua salvato sulla scrivania eccolo lì vedete formato doc guardate che potete installare anche word qui dentro vero perchè qui questi sono i file per linux che sono gli stessi di windows vero perchè libreoffice cmap marble sono omnitux sono file che potete scaricare sono file fox e così via bene l'ho salvato qui ma voglio far vedere l'albero delle cartelle del documenti di so di linux ecco quindi apro la home vedete i documenti immagini modelli musica pubblici scaricati qui ho i file che avevo scaricato prima e qui in documenti la mia prova di doc quindi quando io tornerò dentro questa macchina e vorrò lavorare ancora su so di linux con quel documento lì la riapro e me la trovo eccolo lì e ci lavoro e me la sposterò sulla chiavetta ma è la guida successiva adesso farò vedere che il mio so di linux bello come il sole è collegato alla rete perchè è ospite vero e luce acqua gas il windows glielo da quindi gli da la rete e la stampante e quant'altro però attenzione che le stampanti sono collegate usb e quindi so di linux deve fare domanda in carta da bollo quindi in dispositivi deve dire caro windows tu che hai una stampante scusate dispositivi ah ci picchia questo mouse annulla in dispositivi tu che hai una stampante collegata usb che è la Helvet Packard me la dai gli ho fatto clic e vediamo se me l'ho accettato usb eccola lì la Helvet Packard è accettata allora adesso so di linux che ha la stampante collegata vado a vedere se il sistema l'ha già riconosciuta e installata siccome è un HP molto probabile che non ci sia nulla da fare l'abbia riconosciuta e resa operativa vediamo se è vero ho aperto la cartella stampanti eccola lì perfetta mi è andata proprio divinamente però lo sapevo perchè le HP sono molto riconosciute questa è una stampante A3 allora adesso io me la troverò fra le opzioni di stampa fra le stampanti disponibili eccola lì esso di linux virtuale stampo ecco voi non so sentirete la stampante partire perchè è una stampante eccola qui dietro eccola che parte perfetto bene mi sta stampando e quindi la cosa è fatta allora come salvare l'ho spiegato la doki station la doki station appena parte la macchina voi non la troverete perchè dovrete abilitarla da questa funzione doki ma però perchè sia perfettamente funzionante dovete andare in sistema preferenze impostazioni del desktop e dargli al desktop quelle competenze di dinamicità che non avrebbe mettendo la spunta su usare il compositing a questo punto la nostra doki la troverete qua sotto ma io l'ho spostata qua perchè mi dava fastidio con la guida sulle doki insomma lo faccio vedere impostazioni se voi cliccate impostazioni a questo punto prendete l'ancoretta e la mettete dove volete io la metto lì che mi risulta più comoda e gli dico scompari automaticamente e anzi fatti più piccola che mi dai fastidio perfetto allora la stampa l'ho fatta la doki l'ho gestita vediamo com'è venuta non c'è male uguale a quelle di windows allora adesso praticamente siamo andati al ragionamento dell'uso delle chiavette vi ho fatto vedere che tutti i programmi sono operativi ecco so benissimo che qualcuno farà delle prove su macchine un po' obsolete ma guardate che per avere una macchina virtuale funzionante come questa bisogna avere almeno un i3 lo ripeto perchè molte questioni saltano fuori proprio per questa questione cioè di chiedere al computer quello che non può dare quindi la nostra finestra di virtualbox adesso la predispongo in schermo intero giocate anche un po' così vi renderete conto della comodità la predispongo all'uso delle chiavette per il prossimo video grazie